No mamma, non lo voglio fare questo lavoro, non sono capace e poi ci sono i colleghi che mi guardano male, si lo so, lo so che hai dovuto faticare per trovarmi questo posto. Mamma, mamma, vedo come va, ok? Ok, si, ciao. Ah no mamma, mamma scusa, sai per caso che cos'è un backup? Bene, provi a riavviare il pc? Si, il pulsante centrale, il pulsante centrale esatto. Forse sarebbe ora di aggiornare il sistema. Ha ragione, adesso funziona. Dunque, mi dica pure, in cosa posso aiutarla? Per ora? So, per ora? Grazie.